Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino Incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento sono stati riconosciuti ai partecipanti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino. Oggi è un altro appuntamento di un ciclo di incontri che la Fondazione degli Architetti da tempo cura sul tema degli edifici intelligenti, dei nuovi modi, delle nuove tecnologie per costruire. Lo abbiamo fatto con più intensità da quando la città di Torino si è candidata a diventare una smart city, quindi abbiamo cercato di dare un contributo su interpretare il modo contemporaneo di costruire edifici. Edifici intelligenti ce ne sono stati in tutte le epoche perché in tutte le epoche ci sono stati edifici intelligenti edifici purtroppo stupidi e quindi noi stiamo cercando di in qualche modo lavorare per capire quali sono gli elementi, criteri, requisiti, gli indicatori che possano descrivere quello che effettivamente è un edificio contemporaneo che sia attento alla qualità dell'ambiente, al risparmio di risorse energetiche ma anche capace di fare buona architettura. Una considerazione sul fatto che c'è anche previsto riconoscimento di crediti formativi, un aspetto molto importante per la formazione? Certo, infatti questo è sicuramente un motivo di grande interesse perché vuol dire arricchire queste giornate anche con possibilità di fare approfondimenti più specifici e arricchire anche il proprio bagaglio di crediti che come sapete è un tema molto caldo e attuale per gli architetti. Grazie a tutti!